Tra volte ferito da un pianale mentre stava scaricando dei prodotti da un camion. L'incidente sul lavoro si è verificato questa mattina ad un supermercato di via Ritalevi Montalcini ad Arezzo. Erano da poco passate le 10 quando l'operaio, un 47enne residente a Castiglion Fiorentino, è stato colpito dal pianale del mezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'automedica e un'ambulanza. L'uomo ha riportato un trauma alla testa ed uno all'addome. Il 47enne, che è sempre rimasto cosciente, è stato così trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. In un primo momento, vista la dinamica dell'incidente, l'uomo era stato valutato in codice rosso. Fortunatamente però le sue condizioni non sarebbero gravi e dopo una serie di accertamenti l'operaio è stato dimesso.